Non vi è un vero dialogo ecumenico senza la disponibilità ad un rinnovamento interiore alla ricerca di una maggiore fedeltà a Cristo e la sua volontà. Così oggi Papa Francesco, ricevendo i partecipanti al pellegrinaggio ecumenico promosso dalla orientale Lumen Foundation, in un clima di grande cordialità il Pontificio ha rimarcato che ogni pellegrinaggio cristiano è non solo un itinerario geografico, ma soprattutto l'occasione per andare sempre più verso Cristo Signore. e ha espresso gioia per la scelta di dedicare questo itinerario ai papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, canonizzati lo scorso aprile. Immediato, infine, il riferimento al suo imminente viaggio in Turchia il prossimo novembre in occasione della festa dell'Apostolo Sant'Andrea. La visita del Vescovo di Roma al patriarcato ecumenico ed il nuovo incontro tra il patriarca Bartolomeo e la mia persona saranno segni di profondo ligame che unisce le sedi di Roma e Costantinopoli ed il desiderio di superare nell'amore e nella verità gli ostacoli che ancora ci separano. Grazie. 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 Grazie.